Sono aperte le iscrizioni per il premio di arte contemporanea Basilio Cascella, tra i più prestigiosi d'Italia. Un premio che mira valorizzare l'arte contemporanea creando uno snodo creativo e di riferimento per esportarla in seguito nella rete internazionale artistica. Il tema speciale dell'edizione 2018 è la ribellione. Il premio è diviso in due sezioni, pittura e fotografia. La partecipazione è gratuita ed è riservata a pittori e fotografi. Il premio finale verrà assegnato per ciascuna sezione a un vincitore designato dalla critica e ad uno designato dai visitatori della mostra. Le opere selezionate saranno esposte ad Ortona in una delle prestigiosi sedi disponibili.